Sorelle e fratelli, se vi sentite chiamati da Padre Pio, sappiate, mi prendo tutta la responsabilità come sacerdote e teologo di affermare quanto segue, che non è soltanto lui che vi chiama, è Gesù, attraverso Padre Pio, ciascuno a compiere l'opera che gli spetta per l'edificazione del regno. E ricordatevi, con l'intercessione di Padre Pio, Gesù vi darà il pane, il perdono dei peccati e soprattutto la guarigione. Grazie, sia lodato Gesù Cristo. Grazie.